Durante uno straordinario soggiorno a Barcellona, nel quale ottenne di poter consultare l'archivio con i documenti appartenuti a Miguel Liobet, i manoscritti delle sue opere, le lettere autografe e tanti altri materiali biografici, la mia attenzione fu particolarmente coinvolta nel rapporto con una piccola scatola che conteneva, tesoro per me assai prezioso, centinaia di cartoline postali. Ed erano le cartoline, pazientemente riordinate e catalogate, che il maestro, lungo tutto l'arco della sua carriera, aveva spedito a casa, ai familiari, dai luoghi in cui di volta in volta si trovava. Inutile cercare di descrivere la suggestione di quelle ore, che fu paragonabile solo a quella del momento in cui mi trovai tra le mani la sua Torres del 1859, suonandovi qualche melodia catalana. In quelle ore, nelle quali mi resi conto della vastità di una carriera rimasta per lungo tempo sconosciuta, che poi ho tentato di descrivere nella biografia del maestro, particolari interessi destarono in me le cartoline, tra l'altro pregevolissime nella loro fattura, spedite dagli Stati Uniti d'America, dove egli trascorse lunghissimi periodi, nelle quali si rappresentava talvolta gli altissimi edifici di Manhattan, allora in costruzione. Analogo interesse suscitarono in me le cartoline spedite dall'America Latina, e quelle spedite da innumerevoli paesi europei. Degne di nota, poi, naturalmente, le cartoline, sulle quali mi soffermai per lungo tempo, che Liobet aveva spedito dall'Italia, da Adria, per esempio, dove il maestro tiene un concerto il 26 gennaio 1931, e annuncia ai familiari le successive tappe, che da nord a sud lo condurranno fino a Reggio Calabria, alla fine della penisola italiana, come scrive lui stesso, o il giorno seguente da Bologna, dove scrive alla moglie «Oggi ho passato una giornata splendida in compagnia di amici carissimi», e annuncia la partenza verso Reggio Calabria, che si trova a una distanza di 24 ore di treno. Poi a Messina, quindi a Napoli, che offre uno degli spettacoli più belli mai visti, scrive. In quei giorni visita a Pompei, descrive il Vesuvio e le altre bellezze di quelle regioni, e annuncia la partenza verso Roma. E dalla capitale Liobet invia a casa una cartolina il 10 febbraio di quell'anno. Lì incontra Benedetto di Ponio, e tra i due inizia un'amicizia piena di stima, che condurrà il maestro italiano, primo docente di chitarra in un conservatorio del nostro paese, a orientare i programmi di studi dei suoi allievi in un chiaro riferimento alla scuola iberica. Tra le innumerevoli cartoline interessanti, poi, mi soffermai particolarmente su quella, datata al febbraio 1921, che Liobet spedì a casa da Burgos. Si tratta della cartolina che risale al giorno in cui egli tenne la prima esecuzione di un'opera di fondamentale importanza nella storia della chitarra, l'Omenaje ad Ebussi, che Manuel de Faglia aveva completato pochi mesi prima, in una stretta collaborazione con l'amico chitarrista. È il fascino di quella materialità della realtà, per cui eventi di grande importanza sono rintracciabili in piccoli particolari, come una semplice cartolina postale, oggetti ben precisi e circostanziati nella concretezza dell'esistenza di ciascuno. È l'irresistibile fascino di quel ic et nunc, che sempre accompagna lo svolgersi della storia e dell'arte, rendendo la vita di ogni uomo una straordinaria coesistenza di finitudine e di eternità.